Le lunghezze focali grandangolari e estremamente grandangolari sono le mie preferite per realizzare fotografie di paesaggio. Non sono le uniche che vado ad utilizzare, sia chiaro, però sono quelle che preferisco utilizzare perché mi permettono di andare a scattare un qualcosa con una visione estrema molto più ampia di quella che vede il nostro occhio e dunque avere composizioni e immagini finali estremamente d'effetto. Dunque in questo video voglio parlarvi proprio di queste lunghezze estremamente grandangolari, spiegarvi alcuni vantaggi, quindi come utilizzarle in certi casi, in alcuni momenti perché possono veramente fare un'enorme differenza con le focali invece normali come 24-35 mm però voglio anche evidenziare due casi in cui secondo me sarebbe bene non utilizzare le lunghezze focali ultra grandangolari perché non gioverebbero assolutamente alla composizione. Per chi non mi conoscesse il mio nome è Luca e sono un fotografo di paesaggi. Qui su questo canale ovviamente mi occupo proprio di paesaggio per quanto riguarda la fase di scatto, per l'editing, anche per la stampa. Ogni tanto tratto anche delle video recensioni di materiale, foto e video e dunque se vi piacciono questi mondi non potete fare altro che iscrivervi e seguirmi per non perdervi nessun contenuto che uscirà in futuro. Mi raccomando seguitemi anche su Instagram in modo da non perdervi le mie fotografie e anche tutte quante le storie dal campo. Come vi ho accennato pochissimi secondi fa oggi andiamo a parlare di lunghezze ultra grandangolari e dunque vediamo subito senza perdere altro tempo alcuni casi in cui vale la pena utilizzare un grandangolo in modo da avere delle composizioni eccezionali. Ovviamente il primo caso in cui conviene utilizzare un grandangolo è quando ci si può avvicinare estremamente al paesaggio e al soggetto che stiamo fotografando. In questo modo quindi utilizzando ad esempio un 16 mm su full frame, un 14, un 12, un 11 come ad esempio mette a disposizione Canon potremo andare a includere un sacco di elementi nella scena riempiendo comunque il frame della nostra immagine senza lasciare pezzi vuoti o comunque che vanno a sbilanciare la fotografia e dunque creare delle composizioni veramente eccezionali in quanto comunque potremo avere un primo piano grandissimo, molto interessante, con dei bellissimi dettagli ed eventualmente sullo sfondo comunque una montagna o altri elementi però sempre con una bella dimensione imponente, importante e che non va a morire all'interno della composizione. Il secondo caso che si ricollega al primo in quanto c'è sempre bisogno di un bel primo piano riguarda il cielo quindi andare a scattare con un ultra grandangolo quando si ha un cielo ricco di nuvole con bellissimi dettagli, bellissimi colori è estremamente utile al contrario diciamo non conviene scattare con un ultra grandangolo quando il cielo è vuoto ma ne parliamo a fine video mentre invece quando si ha un bellissimo cielo con dei colori veramente eccezionali la luce che magari attraversa le nuvole e le va a colorare sicuramente quello è un ottimo momento per andare a tirare fuori il nostro grandangolo inoltre se poi andate a includere un bellissimo primo piano sempre con dei bei dettagli magari delle linee guida sicuramente non potrà fare altro che venirvi fuori una fotografia estremamente di impatto il terzo punto si distacca completamente dal primo e dal secondo e si avvicina invece più alla fotografia macro o meglio comunque non è detto che per fare delle fotografie macro si debba necessariamente andare ad utilizzare ottiche sopra diciamo i 40 mm quindi un 40 un 60 un 90 un 105 e così via possiamo andare a fare anche dei dettagli un pochino più grandi ovviamente non dei particolari estremamente piccoli anche con un ultra grandangolo cercando magari di andare a enfatizzare delle linee presenti su una roccia o nella sabbia o nel fango o magari delle linee anche tra le foglie insomma ci possono essere un sacco di modi in cui si può sfruttare un grandangolo anche in questi casi quindi comunque avvicinandoci estremamente al suolo andando magari a isolare un certo particolare appunto di una roccia, del terreno, della sabbia, del fango anche magari di un tronco sicuramente questo può essere un altro spunto interessante e dunque andare a creare composizioni che non sarebbero visibili normalmente a occhio nudo fatemi sapere poi qui sotto nei commenti come utilizzate voi il vostro grandangolo per creare delle foto e delle composizioni molto più creative rispetto a quelle più usuali quarto e ultimo punto in cui secondo me un grandangolo fa veramente la differenza è nella fotografia di interni che possono essere sia case, edifici o comunque qualcosa costruito dall'uomo ma anche delle grotte, delle insenature naturali in quanto l'ultra grandangolo ci permetterà di rendere più ampia la visione di questi spazi di renderli meno soffocanti alla vista in fotografia e dunque di creare una fotografia finale molto più piacevole da vedere e che comunque mostri un qualcosa nella sua totale bellezza e nel suo insieme quindi credo che comunque questi siano i quattro punti in cui un grandangolo può veramente far la differenza e portare le nostre fotografie a un altro livello ovviamente come tutti quanti gli strumenti in fotografia ma non solo ci sono dei pro e dei contro quindi abbiamo analizzato un attimino i pro quindi quando conviene usarlo invece vediamo due semplicissimi casi in cui è meglio evitare di scattare con il grandangolo prima di tutto è da evitare l'utilizzo del grandangolo quando non si riesce ad avvicinarsi proprio fisicamente a piedi con la nostra figura umana al paesaggio nel senso magari si può avere un primo piano interessante con un bellissimo elemento con dei bellissimi dettagli dei bellissimi colori però molto spesso capita che lo sfondo sia estremamente lontano che non ci siano elementi realmente interessanti nel terzo piano quindi comunque nello sfondo ed inoltre c'è anche il rischio che andando a scattare con focali estremamente aperte si vada ad introdurre elementi che possono disturbare la visione della fotografia e quindi distogliere l'attenzione dell'occhio di chi guarda la fotografia dal nostro soggetto quindi sicuramente è da evitare quando sebbene si abbia un buon primo piano non si riesce ad avere uno sfondo sufficientemente grande da risultare realmente interessante inoltre un altro caso in cui è bene andare a evitare di scattare con il grandangolo è proprio come vi dicevo prima quando il cielo è vuoto non ha nulla di interessante non ha bei colori in questi casi salvo rarissimi casi come ad esempio un'alba che mi è capitata qualche anno fa al lago di Massaciuccoli è bene utilizzare focali meno estreme che vadano magari a cogliere più un particolare che l'insieme totale e quindi comunque enfatizzare magari andare a giovare di più della bella luce che si crea in un certo momento andando però a escludere elementi che in fotografia stanno poco bene o sono comunque noiosi in questo caso infatti comunque può essere bellissimo avere un'alba totalmente serena con una bella luce però in fotografia un cielo completamente azzurro, vuoto rischia di essere un pochino poco importante poco interessante e poco piacevole anche per il nostro occhio detto ciò spero che queste considerazioni sul grandangolo vi possano essere utili per scattare le vostre fotografie di paesaggio vi ripeto fatemi sapere come utilizzate voi il vostro grandangolo per creare fotografie nuove, creative, con composizioni originali e mi raccomando iscrivetevi al canale seguendomi anche su instagram noi ci vediamo prossimamente sempre qui su questo canale ciao